Questa iniziativa è molto interessante, molto utile per me e per noi che viviamo nelle redazioni nazionali di grandi giornali perché ci confrontiamo per una volta con i giovani che vogliono fare questo mestiere e quindi è molto interessante per noi confrontarsi con loro. Spero che sia utile anche per chi sta cercando di intraprendere la professione, cercare di capire cosa succede nei grandi giornali e magari ci fossero iniziative come queste in giro per l'Italia in modo più frequente. Questo secondo me è il momento, lo dico dal caldo e del mio posto privilegiato in un grande giornale nazionale, però io credo che questo momento, quello della crisi dell'editoria con tutti i grandi giornali in situazioni di emergenza, sia proprio il momento in cui farsi imprenditori di se stessi e avviare delle nuove iniziative. Ancora non è stato scritto il codice del futuro del giornalismo italiano e mondiale, per cui bisogna tentare, bisogna provare a farlo. Ovvio che è detto da chi sta dentro un grande giornale suoni falso, ma vi assicuro che io in questo momento farei così, cercherei delle nuove strade, cercherei delle nuove iniziative, alcune molto interessanti sono nate in questi mesi, in questi anni a Milano, a Roma e secondo me da lì viene il futuro della nostra professione.